Presentate ieri presso il comune di Palma di Montechiaro a Palazzo Scolopi le liste a sostegno della ricandidatura dell'uscente sindaco Stefano Castellino, sono sei in tutto e sono Nuova Palma, Palma in movimento, corri Palma, costruiamo insieme, volare alto, ama la tua città, che si contenderanno la carica di primo cittadino con Giuseppe Morgana presente con la lista Azione Civica e con Salvatore Manganello con la lista del Partito Democratico. Soddisfatto il sindaco Castellino per la partecipazione che ha visto nel risconto delle liste che lo stanno sostenendo e per l'entusiasmo che giorno dopo giorno si sta creando intorno alla sua ricandidatura. Sono felice, sono emozionato, sono commosso e il giusto, non dovrei dirlo, ma credo che sia il giusto merito e la giusta ricompensa per cinque anni di lavoro senza lesinare sforzi, con un amore infinito per la nostra città. La squadra non solo si riconverma, ma diventa sempre più ambia. Adesso siamo sei liste e io sono onorato del sostegno di queste sei liste, da Nuova Palma, da Malta Città, con Friamo insieme, corri Palma, volare alto e Palma in movimento. Sono onorato dell'affetto e del sostegno di decine e decine di giovani, di uomini e donne che hanno messo la loro faccia, la propria storia a sostegno della mia candidatura per non interrompere un processo di cambiamento che ormai è diventato inadestabile. È il nostro dovere quasi morale vincere per continuare ad amministrare questa città, per continuare quel percorso di rinascimento che la città ha intrapreso. Sono onorato di essere il loro sindaco, del sindaco di questa città.